Bene amici eccolo qua Realme 5 Pro e secondo me le aziende un po' tutte ma anche Xiaomi dovranno stare attenti a questo logo perché è il brand low cost di Oppo e si ha sfornato un best buy Ok un po' anacronistico con il sensore di impronta dietro ok un po' pacchiano con questo disegno della back cover ma già a maggio quando ho provato il Realme 3 Pro che è in cantinetta e comunque riceve aggiornamenti mi era piaciuto ma si 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 best buy andiamo a scoprirli insieme E al solito andiamo a vedere cosa contiene la confezione una cover si coverina in realtà coverona perché è bella spessa però è morbida in silicone ben fatta ovviamente il telefono e gradita sorpresa di un telefono da 199 euro il caricabatterie fast 21 cioè 20 watt carica la batteria da 21 wattora circa un'ora un quarto 50% in 30 minuti e poi c'è il cavo di tipo C Purtroppo non c'è il cavo auricolari eh si vi ho detto all'inizio un po' un po' tamarra questa back cover in vetro però non male il sensore di prodigità l'ho messo qua dietro è veramente fulminio schiacciato e subito acceso il telefono un po' anacronistico ok e le fotocamere 48 megapixel 8 megapixel grandangolare queste due da 2 megapixel un po' inutili la camera per la profondità e la super macro Andando a sporgere un pochino il telefono è un filo instabile quando si appoggia su una scrivania ma nemmeno tantissimo accessione e spegnimento messo qua a destra ma in realtà con il con lo sblocco si accende comunque e qua a sinistra i pulsanti per il volume c'è anche lo sblocco con il volto e qua nello slot carellino due sim più l'espansione per la micro SD C'è il jack per le cuffie grazie Realme e poi c'è la tipo C 1.0 non esce il video in una interfaccia desktop primo microfono e l'altoparlante che è mono come vedete la tacca è a goccia ecco l'unica mancanza che trovo su questo telefono è l'NFC ci sono ovviamente tutte le altre connessioni di rete wireless manca a chi paga con lo smartphone anche con Google Pay Bluetooth 5 Wi-Fi dual band Android auto è ok una delle cose che mi è piaciuta di questo telefono è proprio l'affidabilità non gli ho trovato baghettini color OS 6.0 Android 9 4 128 vi ripeto espandibile patch non aggiornatissime agosto 2019 l'ho notato anche sul 3 pro che gli aggiornamenti arrivano ma non sono sempre diciamo puntuali mensili un po' come un po' come Oppo batteria 4035 mAh vi faccio vedere lo screenshot non è seppato il telefono era solamente sulla schermata bianca guardate a sera 32% di una giornata particolarmente intensa 3 ore e 24 minuti di display con ho usato veramente tantissimo Waze tipo un'ora e mezza di Waze poi il mio solito uso dello smartphone quindi batteria veramente interessante è un telefono che non scalda praticamente praticamente mai per quanto riguarda il display ho deciso da questa recensione in realtà anche da una precedente di andare direttamente su YouTube e far vedere il 4K HDR classico così andiamo ad asciugare un pochino la recensione fatemi sapere se apprezzate questa scelta oppure meno ormai l'immagine che vi mostravo sempre sia senso però qua vediamo più nel vivo di un'applicazione come si vede faccio lo zoom dello schermo che ovviamente è 19 noni 6,3 pollici è un IPS normalissimo nulla di che tant'è che non viene riconosciuto anzi si ragazzi guardate viene riconosciuto come HDR anche se non lo è quindi questo è un bug di YouTube però è un bel display luminoso si vede bene sotto la luce del sole le angolazioni ovvio allora ad angolazioni limite soprattutto sui neri un filino si vede grigino però comunque è un normalissimo IPS un buon IPS è forse un filo poco leofobico quando si va a usarlo un po' rimane un po' la patina rispetto ad altri smartphone che lo sono di più però comunque un buon display ci sono ovviamente le gesture per il multitasking adesso ho spostato questo comodissimo widgettino che consente guardate in un tap di spegnere il telefono le gesture quali sono intanto facciamo il trittico ovviamente c'è il back e tra l'altro facciamo anche la storia Instagram con ormai mi sono innamorato di questo filtro che mi fa cambiare occhiali da sole ogni volta che sposto la testa ma ci fa vedere anche la fluidità il processore è lo Snapdragon 712 quindi veramente sulla fluidità nessun problema e vi dico prima multitasking con uno swipe su il back con gli swipe a destra e a sinistra torniamo al trittico questo è twitter torniamo indietro questo è il gestore delle pagine e anche qua nessun problema tra l'altro scrivo perché un'altra cosa che mi è piaciuta è il feedback della vibrazione non è aptico non è toc 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 però non è neanche zanzaroso non ha la coda non la molla insomma è nella media e mi è mi è piaciuto particolarmente e ripeto la fluidità di questo telefono per quello che costa ci sta alla grandissima vi parlo di parte telefonica allora andiamo qua ecco il dialer non mi piace perché a non segnalo spam e b non registra le chiamate metto la voce alzo il volume e vi faccio ascoltare allora si sente bene ho fatto delle chiamate in nuova voce senza nessun tipo di problema l'audio ok la ricezione ok anche dalla capsula auricolare 13 secondi per avviare il real racing segno che le memorie non siano fulmine ma poi è super fluido ma quello che mi è piaciuto tanto di questo telefono è la parte fotocamera perché diciamo lo dico subito è il vero valore aggiunto foto non da top camera phone ma le migliori rapportate al prezzo guardate la velocità di messa a fuoco tra l'altro riconosce sempre abbastanza abbastanza bene la scena che stiamo andando a riprendere per andare nella macro bisogna schiacciare qua vedete 120 gradi non distorce nemmeno particolarmente vi faccio vedere qua le opzioni con sono queste le faccio vedere molto velocemente per quanto riguarda invece le opzioni avanzate bisogna andare qua e vi faccio vedere come sia gli iso sia il tempo di esposizione possono essere cambiati da un 8 millesimo a 16 secondi bilanciamento il bianco autofocus e anche l'esposizione poi si schiaccia qua e si torna ai valori zero e poi c'è la modalità notturna ultra 48 megapixel panoramiche sperta la timelapse slow motion eccetera 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 e nei video fino al 4k però 30 frame per secondo a 60 si ferma al 1080p vi faccio subito vedere i risultati degli scatti perché ce ne sono di interessanti non so se partire da allora una fotografia intravedete qua non l'apro perché vedrete il play da questo telefono non adesso perché sto aspettando che mi mandino montato uno spot ma giuro che l'ho fatto a fin di bene comunque camera anteriore guardate qua devo dire foto che è venuta venuta bene e poi sono stato a mangiare in un posto dove si mangia veramente bene poca luce tanti contrasti perché le finestre là in fondo e guardate la camera 48 megapixel ha lavorato veramente bene anche su questa macro anche su questo contro luce ma soprattutto ha lavorato bene su questi dolcetti dove l'effetto bocchè naturale della camera mi è piaciuto particolarmente poi la mclaren gt che grande macchina quanto mi sono divertito in questa giornata con questa mclaren fari posteriori bellissimi una linea led che diventa prima freccia poi posizione e anche freno e le foto con poca luce anche qua ripeto non è un top camera phone ma al prezzo cui viene proposto secondo me non si può trovare di meglio lato fotocamera perché questa è la foto notturna cioè notturna nel mio solito bunker ecco la grandangolare con poca luce soffre tantissimi infatti questa foto con grandangolare poca luce vedete tende al verdino quindi le mie considerazioni sono valide per la camera normale e anche per le macro che vengono veramente bene questa è la x3m competition guardate questa foto alla scritta come bella come bella anche gli interni fatti con la grandangolare ma soprattutto guardate questa macro sul pulsantino che con un click predispone la macchina all'assetto m secondo me è venuta molto bene di notte bisogna lavorarci un filo di più però qua veramente pochissima luce e secondo me per un telefono da 199 euro non è assolutamente venuta male la fotografia qua vi butto un piccolo accenno giusto per vedere come gira i video del backstage di questo spot che arriverà sul web ma ripeto le foto le migliori rapportate al prezzo i video invece direi così così sui video rientriamo nella media dei telefoni che costano 199 euro c'è la radio fm vi faccio ascoltare la solita canzone di test alzo il volume è mono l'altoparlante però devo dire che si sente abbastanza bene anche mettendo le cuffie si può equalizzare si può equalizzare bene concludendo 199 euro su amazon e vi ripeto lo considero un best buy perché va bene la batteria dura tanto è affidabile fa belle foto ok è bruttino anche questa costruzione qua della scocca che è in plastica ma comunque molto solida robusta non dà l'idea di chip non è bellissimo ma nella vita non si può volere tutto e lui mi è piaciuto funziona bene usato da andrea galeazzi punto com